Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 giugno. Allora, praticamente su tutti quanti i giornali italiani abbiamo sostituito il virus come giornale unico del virus a Conte. Il giornale unico di Conte. Non peraltro perché ho letto un'intervista sul Fatto, in esclusiva, un'intervista sul Messaggero, che ovviamente è stata riportata ovviamente dal mattino, un'intervista su Repubblica, un'intervista sulla stampa di Conte. Siamo riusciti a fare le interviste ovunque, oggi forse è mancato il Corriere della Sera, ma ci riprenderemo domani, dopo domani, con una chiacchierata fatta in macchina da Franco. Devo dire, insomma, io questo lo considero ovviamente normale, perché il Presidente del Consiglio, chiunque lo possa sentire, lo sente. Dal punto di vista giornalistico, però, voglio dire, dal mio punto di vista, che faccio questa zuppa con voi la mattina, le notizie sono poche. Dice, gli stati generali serviranno per avere più soldi dall'Unione Europea e sapere come spenderli. Questo è il leitmotiv del Fatto Quotidiano. Al messaggero, invece, dice, su Alziano rifarei tutto riguardo all'interrogatorio che avrà oggi, che pure i giornali citano da parte del PM e la faccia del PM diventa una specie di eroina oggi, una bionda signora che interrogerà non soltanto Conte, ma anche Speranza, alcuni funzionari, e la Morgese oggi a Roma. Insomma, oggi dice, io avrei rifatto tutto. Questo dice Conte al messaggero e più o meno lo dice a tutti quanti i giornali. Nel frattempo, il Libero e il giornale dicono le carte che inchiodano Conte, cioè quella circolare dell'8 marzo, in cui si dice che la zona rossa la poteva fare soltanto lo Stato. Ed è il motivo per il quale tutti chiedono a Conte, una volta che avevi mandato dal Zano Lombardo, dove c'è il Gran Casino, avevi mandato l'esercito, perché dopo tre giorni non gli chiedi di chiudere? Beh, insomma, su Repubblica il titolo è Le pressioni industriali su Conte, cioè a non far chiudere quella roba lì, sono stata la Confindustria. Lo disse a suo tempo a Quarta Repubblica anche il direttore del Quotidiano Nazionale, Michele Brambirla. Su Repubblica Conte ci rassicura, non farò il mio partito, anche se tutti quanti, oggi lo ricorda Polito mi sembra, tutti quanti i presidenti del Consiglio, diciamo Maveric, che escono non da un partito, dopo aver governato un po' si attribuiscono delle grandi doti, diciamo, elettorali. In questo caso si dice che il Partito di Conte potrebbe valere, cioè sui giornali, tra il 12 e il 14%, ma Polito, nel suo pezzo di oggi, ricorda come Monti, che poi è finito come è finito oggi, addirittura in maniera farsesca, perché dice, mi sembra libero, che ho rinunciato per il bene del Paese a non fare il Presidente della Repubblica. Porca puttana, guarda, che peccato che ha rinunciato, anche se ovviamente questa cosa se l'è sognata forse in qualche auletta della Bocconi, comunque, ritornando al peso del Partito di Conte, dice 12-14%, insomma, e devo dire che è abbastanza impressionante, Forza Italia vale 6%, 7%, Fratelli d'Italia vale 12-14%, insomma, un partito come Fratelli d'Italia vale come quello di Conte. In realtà, dice Polito, anche Monti sembrava che valesse 15-16-17%, e poi si è visto come finisce. E quarta intervista di Conte oggi sulla stampa, un miliardo da investire in un milione di alberi, cazzo che idea, ma porca miseria che idea, questa secondo me piace molto questa idea, un miliardo da investire in un milione di alberi. E poi sai che cosa facciamo quando abbiamo messo questo miliardo dei contribuenti nel milione di alberi? Ce li abbracciamo, sembriamo che cozzalone, ci li abbracciamo, prendiamo gli alberi, adesso vado qua dietro, mi abbraccio l'albero, grazie albero, finalmente ho un ambiente più pulito, più contento, siamo tutti più brini, ma che cosa? Mi viene in mente solo pensare che uno possa investire un miliardo dei nostri soldi per prendere un milione di alberi? Oggi basta andare, andate, vi prego, sul sito delle foreste italiane, il sito delle foreste italiane, e si vede come la forestazione in questo paese è a livelli più alti del Novecento, cioè sono aumentate le foreste in Italia, il problema, sapete qual è? E' che stanno diminuendo gli agricoltori, le coltivazioni, perché non abbiamo più agricoltura, non troppi alberi, io darei un miliardo agli agricoltori, non agli alberi, ma questo ovviamente non è facile da far capire a quelli che manifestano nelle città buttando giù le, mettendosi in ginocchio, e l'altra cosa ci vuole un piano Industria 4+, questo dice sempre la stampa Conte, sapete cos'è il piano Industria 4+, dedicato alle aziende che investono in intelligenza artificiale, complimenti, è come al solito un grandissimo titolo, io ho visto un sacco di aziende che investono in intelligenza artificiale che non vedono l'ora di avere il piano Industria 4+, poi vabbè, conosco qualche commerciante, qualche artigiano, qualche made in Italy, qualche sarto, qualche esportatore di meccanica che non ha l'intelligenza artificiale, muoiono, 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 perché noi sapete che dobbiamo fare, dobbiamo fare intelligenza artificiale e alberi in Italia, questa è la grande strategia del futuro, non prendo in giro questi grandi settori, ma non è che tu puoi pensare che dall'altro arrivi al basso, se questi settori non gli permetti di aprire, gli rendi la vita complicata, non esiste venture capital in Italia, secondo voi basta un titolo di un decreto e un'intervista di Conte per sviluppare l'intelligenza artificiale in Italia che per entrare in un'università oggi e fare quelle robe lì devi essere raccomandato da quattro baroni della minchia, vabbè, insomma, andiamo avanti. Conte tira dritto, ho un piano, è il titolo invece del Corriere della Sera e però il Corriere oggi, ve lo segnalo, cambia un po' il passo nei confronti del suo Beniamino Conte, come se il fatto lo cambiasse, beh, adesso non esageriamo, Galli della Loggia dice nessuno in Europa ha mai fatto tanti tavoli e tanti stati generali che non servono assolutamente a nulla, è del tutto evidente che abbiamo una classe politica mediocre e che sta cercando uno scarico di responsabilità, scrive Galli della Loggia oggi sul Corriere della Sera, Polito è durissimo, rifarei tutto uguale, ha detto Conte, l'enfasi regale dell'avvocato del popolo, enfasi regale dell'avvocato del popolo, come l'impressione che una parte del Corriere della Sera, quella che ogni tanto emerge sotto il pelo dell'acqua, stia mollando questo governo Conte che come a molti italiani fa orrore. Minzolini, la dice chiara e facile, oggi il suo, è il fondo del giornale, dice è cambiata l'aria sul Presidente del Consiglio, Conte ora ha paura e ci scrive nel pezzo significativo quel suo bagno di folle a fischi e urle che ha fatto a Roma di cui abbiamo parlato ieri dal tempo. Cerasa invece è l'unico che tutto sommato mantiene dritta la banta del contismo italiano, Winston italiano, e dice usciremo se usciremo dalla gnagnera che non ho ben capito cosa sia dovremmo essere più costruttivi e pensare che questi come si chiama che questi stati generali siano una opportunità. Poi andiamo sulle questioni diciamo di lockdown. Stupendo, rinvio calcetto e discoteche, cioè il lockdown continua per il calcetto e le discoteche io su questa roba delle discoteche impazzisco, devo dire la verità che questo è un tema che non riguarda soltanto l'Italia, il Daily Mail oggi ad esempio dice due terzi dei bar e dei pub e dei ristoranti in Londra sono possibili di chiusura, potrebbero chiudere per le regole di distanziamento di due metri che hanno posto del governo che prima non voleva distanziare. Poi ci sono i dati sull'epidemia che ripartirebbe in 11 stati negli Stati Uniti e poi c'è insomma questo clima che rimane c'è un po' di virus nel corpaccione del giornale italiano rimane e sono tutti compiaciuti del fatto che la mattia sia persistente e su questo poi si innescano tutte le questioni economiche italiane una di queste è io continuo a dire la situazione dei professionisti oggi la decimazione dei professionisti ne parla Italia oggi 2 su 10 sono a rischio di espulsione vi segnalo che tutti i decreti che poi in realtà hanno fatto poco però hanno fatto molto per alcune categorie in realtà per i professionisti a parte i 600 euro hanno dato davvero poco e sono in questa condizione l'altra divertente gioco dell'Italia di Italia oggi e ve lo ricordate quel fondo sure che si sarebbe dovuto occupare del finanziamento europeo della cassa integrazione che peraltro in Italia vale 15 miliardi di costo al mese quindi quanto ce la possiamo permettere anzi oggi è venerdì dovremo vedere se tutti quanti i cassa integrati come ha promesso Tridico qualche giorno fa riceveranno la cassa integrazione ma detto questo Italia oggi fa vede il grande fondo europeo sure che abbiamo anch'io per primo ho detto ci darà un sacco di soldi vale 100 miliardi e poi calcola Italia oggi non io orizzonti mi sembra azzurri non so come si chiama il centro studi che è interpellato l'Italia oggi che questi 100 miliardi sono sulla carta in realtà noi pagheremo per far parte di questo fondo 2,5 miliardi e otterremo 3 miliardi indietro per cassa integrazione quindi un beneficio che arriverà fra un anno di 500 milioni insomma 100 miliardi sulla cassa integrazione sì 500 milioni meglio che un calcio nel sedere ma insomma non esageriamo e il governo intanto vara il family act vedete quando si mettono insieme tutta una serie di aiuti alle famiglie io sono d'accordissimo l'idea che le famiglie si debbano aiutare io sono ovviamente d'accordissimo però ho un piccolo tema che mi arriva qua come ho letto oggi sul family act quando si dice aumento dei congedi per i papà i congedi gli assegni eccetera toc toc ragazzi e i professionisti e gli autonomi e gli sfigati e quelli che lavorano in nero e quelli che hanno un figlio e non hanno un lavoro fisso cioè il tema fondamentale è che noi aiutiamo sempre di più i protetti e dei non protetti ce ne freghiamo sempre di meno cioè la sostanza è che andiamo ad aggiungere differenze rispetto alle attuali disuguaglianze che ci sono tra i protetti e i non protetti se tu sei un tassista ma che cazzo di congedo prendi ma mi lo volete spiegare se un NCC che congedo prendi se gestisci una discoteca che congedo ah no quelli non sono lavori belli il lavoro bello è far ragioniere alla Catasto o essere un impiegato di un'azienda pubblica siamo perfettamente d'accordo nel frattempo crollano le borse sul crollo delle borse oggi c'è un solo pezzo Teresa Campo un solo pezzo Teresa Campo tutti gli altri dicono crollano le borse perché godono lo mettono nella linea di continuità del covid il covid non è finito le borse crollano no le corse crollano per il lockdown questo è il motivo quello che è successo è che ieri è crollata Wall Street 7% e si è postata appresso dalle 3 e mezza in poi sostanzialmente tutta l'Europa compresa l'Italia meno 5% scrive Teresa Campo è la prima questione seconda questione un mese di rally perché dopo lo shock iniziale del lockdown le borse sono salite moltissimo ieri hanno preso tempo probabilmente lo riprenderanno anche nelle prossime settimane non lo sappiamo però il rally del mese non lo dice nessuno l'altra cosa dice sono arrivati due previsioni macroeconomiche durissime dell'Ox e della Fed che hanno portato al ribasso le borse in più i dati sul petrolio hanno riportato al ribasso e più alla fine anche l'idea che in America potesse riprendere il covid in 11 stati cioè quello che vogliamo dire è che le borse di ieri se le volete analizzare con isteria leggete il titolo di Friedman oggi sulla stampa bruciati 328 miliardi di euro come se fosse tornato il covid in realtà è tornato il lockdown semmai le conseguenze del lockdown posto tutto ciò intervista a Spence non ci riprenderemo se non al 2022 ricordatevi che i premi Nobel sono dei geni ma se coprissero di mercati sarebbero dei miliardari non dei geni col premio Nobel detto questo oggi il pezzo migliore è la cronaca di MF chapeau a Teresa Campo che ci spiega in maniera cronachistica senza rompere le balle con le intuizioni le cose retroscena deve raccontare quello che è successo sui mercati qualcuno ancora lo fa MF è uno di quei giornali che ancora si premura di dire quello che avviene fabbriche aperte e invece l'idea del sole 24 ore degli industriali mi sembra che ad aprire il quotidiano nazionale non ci vogliono mandare in vacanza e in realtà il tema delle fabbriche aperte per cui chiedono una serie di presidenti industriali di tenerle aperte anche ad agosto il sole dice che chi ha ordini vuole tornare ad agosto sarebbe un dato positivissimo perché vorrebbe dire che c'è lavoro c'è domanda ci sono ordini quindi io invece di stare a farmi le pippe sui sindacati apriamo o non apriamo eccetera se veramente fossero aperte ad agosto le fabbriche vorrebbe dire che i dati che ieri arrivavano dalla Fed e dell'Ox che sembravano drammatici non lo sono spero speriamo dobbiamo augurarci che le fabbriche siano davvero aperte ad ottobre come alcuni industriali penso a ragion veduta stanno chiedendo sperando che Landini oggi intervistato dalla stampa non si metta con i suoi amichetti di traverso ho letto su Corriere della Sera pagina 35 40 è un taglio basso di economia che probabilmente in pole position per la guida di Alitalia quella diciamo che uscirà dagli aiuti di Stato dovrebbe essere Fabio Lazzarini siccome l'ho conosciuto e l'ho visto in opera non solo in Alitalia se così fosse se così fosse avremmo il primo vero grande manager diciamo che sa quello che deve fare senza partito politico non è leghista non è grillino non è niente è solo un ottimo manager alla guida di un'azienda che stiamo comprando e pagando tutti quanti noi vediamo che altro c'è e poi l'ultima vicenda della giornata è questa cosa di prendere di rendere puro il passato come dice Battista cioè la questione del Stato di Oara hanno perfino bocciato c'è un'azienda svizzera che ha tolto dal commercio i cioccolatini Moretti voi vi rendete conto il rincoglionimento a cui siamo arrivati Guzzanti se la prende giustamente con Lerner è sempre cosa buona e giusta perché Lerner è quello che voi ben conoscete però Lerner dice una cosa su Montanelli e sull'idea di questi quattro deficienti che vorrebbero togliere la Stato di Montanelli oggi dai giardini di Milano è oggetto Montanelli di una venerazione spropositata scrive Lerner non alimentiamola boicottandola l'unica cosa che riconosco a Lerner è che è l'unico di quelli con cui io non andrei a cena insieme e che trovo disgustoso nel suo pensiero che rimane almeno originale che non fa finta di essere amante di Montanelli quando fino a ieri lui è stato uno di quelli che insomma si è compiaciuto dei nemici che aveva Campi dice sul messaggero dall'igiene delle parole all'iconoclastia però ci dice anche che ragazzi guardate che questa non è una novità del Novecento la gente che impazzisce sulle statue mentre l'ultima cosa che vi voglio segnalare ed è un il manifesto dice ma non riesco a capire perché ve la prendete tanto se togliete le statue di Montanelli o se togliete le statue di Cristoforo Colombo o di Churchill o dei razzisti e non vi rendete conto di come in realtà le avete tolte di Marx e di Lenin dice il manifesto bello tosto l'ultima cosa che vi voglio segnalare è Zoom quanti di voi hanno comprato e hanno usato Zoom negli ultimi anni e negli ultimi mesi tantissimi allora quando stiamo qua a parlare di Stato e di libertà eccetera Zoom fondata da un'ingegnere cinese società californiana che oggi vale 63 miliardi di dollari cioè più della nostra Eni Zoom ha impedito una video party sapete a chi ha dei esponenti dei diritti civili cinesi che volevano commemorare Tiananmen allora noi siamo nel mondo in cui rompiamo i coglioni alle scatue di Cristoforo Colombo zitti e muti perché c'è soltanto un boxino oggi sui giornali a questa merda del proprietario di Zoom che vive in California sicuramente con la sua Tesla che impedisce una video party a dei patrioti cinesi che volevano ricordare piazza Tiananmen avete capito cosa è Zoom? avete capito lo strabismo del nostro mondo? va bene Cristoforo Colombo? no lo uccidiamo va bene via col vento? no non la vogliamo vedere HBO è Zoom? è Zoom che impedisce che si vedano tra di loro i cinesi come la consideriamo? ovviamente niente facciamo finta di Nelle facciamo fippa e continuiamo tutti i giorni ad inginocchiarci a pensare alle minchiate e non che la nostra tecnologia altro che l'intelligenza artificiale ragiona da comunista com'è questo Zoom che cercherò di evitare il più possibile usiamo tutto il resto io tutto il resto meglio il resto di Zoom sentite l'ultima cosa la notizia che non c'è sui giornali oggi la trovate sul sito nicolaporro.it travaglio si fa fare il prestito con la garanzia dello Stato il giornale di travaglio lo trovate su qualche giornale? no forse nei prossimi giorni non bisognerebbe scrivere il giornale che non ottiene finanziamenti pubblici e non ci fanno due palle con sta roba qua perché in realtà toc toc i soldini quando arrivano dal fondo di garanzia piacciono il travaglio anche se ha perso un milione e mezzo l'anno scorso fate questo esempio quale imprenditore che ha perso un milione e mezzo nel 2019 riesce a prendersi due milioni e mezzo di prestiti nel 2020? domanda che voglio fare a tutti voi è lasciarvi con questa domanda voi della zuppa leggete tutto sul sito nicolaporro.it tutti i dettagli e tutte le risposte a questa domanda ciao